Bene ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Barry. Ragazzoni, dalla faccia si vede, sono post live, però la intro ci tengo a rifarla perché... Insomma, comunque il video con la intro sembra sempre un po' più curato, mi piace, almeno uno si fa anche un'idea di quello che vedrà poi nel gameplay. Quella che state per vedere è una partita con una classe che ormai sta già dominando completamente le lobby, secondo me. La R in questione è il DG, ragazzi, quello raffica, adesso non mi dico, il DG56, scusate, che è l'arma raffica D3, che è letteralmente un laser. Ora vi dico, la build che sto usando è una build che mi sono fatto io, ok, è la build che poi sto usando, sto utilizzando anche nel video. Sicuramente ci saranno delle varianti, non lo metto in dubbio, però quella che utilizzo io c'è l'Arbinger con la canna DG56, l'Effeta Creeper, caricatore da 40 e poi uso l'Eagle Sai 2,5. Questa arma, ragazzi, è letteralmente immobile, da midrange è un laser, servono due raffiche circa, cioè in testa due raffiche nocche, letteralmente. Da long, comunque, fa il suo, raga, perché anche da long, in realtà, se miri bene, se l'avversario non ha tanti ripari, lo nocchi senza problemi. È un laser, che sicuramente verrà nerfato, quindi usatelo, utilizzatelo subito. Per quanto riguarda poi la secondaria, invece, potete usare la Swarm, mi ricordo anche il nome, o lo Striker. E non vi do la build, in realtà, perché è una build che ho fatto io a caso, quindi ci tenevo solo a farvi vedere questa. Provatela, ragazzi, fatemi sapere se già l'ha utilizzato, se l'avete provata, cosa ne pensate, perché è letteralmente un laser. E niente, ragazzoni, io vi lascio al video, mi raccomando, vi invito, come sempre, a seguirmi in live tutti i giorni su Twitch. Ragazzi, stiamo spingendo, stiamo facendo un sacco di giochi, contenuti, ci stiamo divertendo un sacco, il gruppone poi è enorme, quindi a me piace, perché siamo in tanti. Niente, vi lascio al video, un bacione, bella ragazzi. Io domani, ragazzi, voglio anche svegliarmi presto, che ho le nuove lezioni, matematica generale, matematica generale degli SR, che Nico domani insegna come calcolare in tempo reale. Ma scusate, ragazzi, ma siamo, ah no, questo è uno che non c'entra con noi, pensavo fossimo in team da 5. No, ma perché c'era sovrapposto, c'era sovrapposto il nome. Guarda che bello. Raga, raga, vi prego. Piano è qua, è qua. 1 HP, bro. 1 in 3 al carrello. Mi ha dato un colpo col pompa. 1, 1 terra. Da me, da me, raga, da me, da me, da me. Arrivo, bello mio. Minchia, raga, giuro, darei, non so cosa per vincere, per vincere il mio secondo game su Warzone. Ehi. I suoi c'erano brasiliani. Dov'è il super testo? Uno sistemato! Sì, è super testo one shot. Ma sono due morti. Eh, qua, ok, non sono matto, c'è uno. Minchia, avevo visto. Minchia, non ho noccato uno, però ho risposto del finish, lì davanti. Ce n'è uno da prendere il finish qua. Bravo, lì. Terra. Vado a prendere il load, io, raga, eh. Aspetta, sta crossando, eh. Non mi guarda, non mi guarda. Minchia, raga, posso dire, cioè, non ho giocato un game serio, però... Avevo sbagliato quando il multi avevo detto che, secondo me, gli AR raffica potevano essere forti. Cioè, il DG, ragazzi, è sbroccato, eh. È lì, è stato, vero. Dove è andato? È qua, adesso. Mamma mia, raga, sbroccata. Sotto maschera ai due. È stato, è stato. Arrivo, è al Bedros. Stai sereno, stai sereno, ragazzo. Dove, dove? Eh, ho capito. Non è la prima volta che lo farà, eh, per averlo a scena. Ma ti ha confermato instant, cioè... Dio, mi ha dato la chieda da me. Pensa quanto era one. Mi bastava uno sguardo, era morto. L'ho dovuto dare, però... Uno sguardo che però, ahimè, non c'è stato. Eh, ti va ad arrestare, dai. Eh, no, c'è il minimo, cioè. Minchia. Minchia, è incazzato... Incazzato nero, maschera. Non vedo sui personale, eh. Minchia due. Vabbè, guarda dalla prospettiva diversa, maschera. Puoi prendere la classe giusta, ora. No, adesso, minchia, ci metto un quarto d'ora qua. Devo prendere la classe giusta. Ah, perché ho giunto una classe, ma non l'ho fatta. No, perché giochi solo, bro? Eh, perché il cesore... No, perché sono morto. Minchia, ma per il C4 volante, ragazzi. Eh, il C4 volante. Vieni qua col baluno, vieni. Mi ha ucciso un C4 volante. Non dovrebbe esserci nessuno qua, Yano. È arrivato ora, è arrivato ora da dietro. Eh, te lo fai? Te lo, Yano, ti prego. No, non ci credo. Il coglione qua godo. Eh, Saiyano, dai, fai serio che è un bel game, dai. Eh, minchia, mi deve far morire. Guarda che c'è il Bengalater. Un bel fama che è Yano. Questo è uno di quei gulagati se lo perdo, ragazzi. Non ci può essere arrivare là sopra. Perché sto a morire là? Non a morire là, va beh. Dai, per... Un gulagati. Ancora che si è proprio con tacchino uno. A me è pieno, raga. Un altro sul tetto. Mirano davanti a dove? Lo dico io, dal tetto là. No, invece, è bello mio. Davanti a te, da. Arrivo, ti do un malforte. Eccolo, è proprio qui di fronte a me. Ehi, l'ho killata. C'è gente, Yano, là davanti a te. Mi ha salto. Cazzo, sono aiuto, please. Vabbè, riprendermi la roba dal balcone. Va davanti a me. 10, 10, 4. Prendete la roba per restare veloci, raga, che... No. Va bene, Yano, no. Vabbè, dov'è? Va bene. L'ho preso io, l'ho preso io, preso io. Da me? Stiamo sembrando. Avete preso uno qua che si tuffava? L'avete preso, raga? Sì, 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 sì. Attenzione. Ti traccavo. Eh, one shot. Ma è pieno, raga. Guardate il ping da me, guardate qua. Tutti, tutti, tutti. Minchia, me lo deve rubare Dario. Minchia, me lo devono rubare. Figlio di troia. Ma da me è pieno, eh, raga. Pieno da me, se volete. Un ghio, povero. C'avete un rest, raga? Grazie, grazie. Eh, venite lì. Dove sono morto io, raga? Venite lì. Fidatevi, venite lì. È bello full. Ah, Dario, ti spara andassù? Provo ad aiutare. Dammi un secondo. Ok, mi ha preso in volo. Scendi, Dario, scendi. Thank you. È stato preso da uno sniper. No, dietro. Miro. Sopra il tetto, sopra il tetto. Vado all'oddy, raga, vado all'oddy. Mi hanno cecchinato, minchia. Riuscite a smoccare, raga, please. Vado dietro all'oddy. Grazie. Raga, sono in tre, sono usciti dal tetto. Due grazie. Raga, ti prendono. Sei un pazzo, masca. No, no, devo un po'. C'è corazze. Qua davanti, qua davanti, qua davanti. C'è corazze, masca. Thank you. Pagliano. Preso, preso. Eh, uno in casa qua, raga, al ping. Sopra? Uno in quella casa lì, eh. Radianzio, questo, eh. Sono questi quattro qua. Eh, sono loro, sono gli ultimi. Eh, sono bravi. Io sono bombardistante, mamma mia. Vedo lo shopper e salmi, se volete. Sì, adesso vado io. Non so male. Terra, uno. Oddio, por. Ah, un piccato subito, un piccato subito. Uno ho messo a terra. No, no, non l'ho per essere. Uno l'ho fatto, eh. Uno l'ho fatto. L'hai finito? L'hai finito? Eh, non mi posso lasciare andare, non so perché. Ok, ora sì. Aspetta. Vai, vai. Due secondi. Vai. Mi dovete restare di nuovo, mi so. No, mi hanno sottocchato. Ma basta. No, zio, questo citta, 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 zio. Citta, questo citta. Ma cosa? Bro, ma vedi il bombard? Perché non li ho usati per buttarli più da lì? Pecchino, Dario. Andi un attimo, raga. No, prima non perne uno. Ok. Uno quasi crack. Ma come fa a saperlo? Mi ha chiamato uno sus, raga. Ma come cazzo fa, raga, sapere sempre dove sono? Livello 23 base, raga, quello che mi ha ucciso, eh. Dovete anche lo shop, dai. Sus. Suss. Minchia, Yano, hai il triplo. Hai il triplo res, Yano. Quello mio, ma come minchia faccio? Eh, senti... Ma questo, raga, overpeak, cioè, è un matto, eh. Questo invece... È là il coso, se riesci. Solo sta bello mirando. In questo momento sta vedendo la... Il personaggio di Yano attraverso i muri. Sta vedendo quello scheletrino. Quanti cazzo sono ancora? Due. Come due? Due, due, due. Eh, potevano... Ci sta che provi a giocarsela. Bravo, bravo, Yano. Ho restato, Yano, sono triplo. Eh, hanno restato, sì. Potremmo essere anch'io, in teoria. Sì, no, lì, lì, scherzi a parte... No, lì potevi andare a restare stra-chill, restavi tre persone e vincevamo. Minchia, comunque c'è la di brutto con Yano, masca, eh. Ma si sente un botto da come si rivolge, proprio, cioè, che sta proprio sui coglioni.